Al nuovo Arredo Arena domenica arriva il Monterosi, una squadra ostica che ha cambiato da poco l'allenatore. Per me è una squadra ambiziosa, ha dichiarato Roberto Taurino in conferenza pre-gara e sul prossimo avversario aggiunge Hanno cambiato allenatore ma non hanno cambiato modulo, hanno tenuto lo stesso modulo, magari hanno fatto delle variazioni sull'atteggiamento o sulle strategie che poi naturalmente è individuale a seconda di quello che è il credo di ogni allenatore. Però è una squadra che ha dei valori, ha qualità, ha fisicità, ha entusiasmo perché è una squadra neopromossa quindi come tutte le neopromosse secondo me si portano dietro quel bagaglio emotivo che hanno le squadre che hanno vinto e che hanno fatto grandi risultati. Le condizioni della Virtus Francavilla di tutto il gruppo della squadra sono brone ma non manca sicuramente qualche acciacco che fortunatamente non preoccupa il tecnico biancazzurro. Qualche acciacco c'è sempre però devo dire che siamo in un buono stato generale quindi in questo momento anche l'infermeria è relativamente vuota, non abbiamo grossissimi problemi, ripeto qualche acciacco che è più che normale. E più in generale sul torneo che continua Taurino conclude. Sarà una squadra che ci metterà in difficoltà perché hanno comunque dei giocatori, qualcuno lo conosco, hanno giocatori di fisicità, hanno giocatori di personalità, hanno qualità in mezzo al campo. È una squadra che ha dimostrato fino adesso di poter giocare benissimo e di stare tranquillamente in questo campionato. Grazie. 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 Grazie.